Ciao a tutti gamer e benvenuti in questo secondo episodio di Limbo, un gioco che mi sta veramente piacendo e spero che vi stia piacendo anche voi ragazzi perché è veramente qualcosa di incredibile questo gioco E niente ragazzi, non mi voglio perdere in troppe chiacchiere, non vi voglio far perdere troppo tempo Vi lascio alla visione del video Buona visione Ok raga, succederà qualche... No, sono rimasto intrappolato, no No, vattene Simo Vattene Simo No, no No, ma eri senza zampe ragno schifoso No raga, no, 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 no Questo ho fatto male Vai scappa No No, non ci... cos'è? Ok, sono ancora vivo però Ok Agitiamoci così rompiamo le ragnatele Vai Ok, perfetto Signori Ok, va bene Perfetto Sì, però in questo modo raga, mi sembra molto difficile scappare da questa cosa Via, 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 scappa, scappa Scappa Ok Ragazzi, non potete capire quanto è difficile Limbo Non sembra per essere un indie Ma è veramente complicato ragazzi questo gioco E non vedo l'ora di andare avanti E di scoprire cosa succede Spero che valga anche per voi Dunque ragazzi, un bel pollice in su E attivate la campanellina per rimanere aggiornati Sul canale e sui video Guardiamo quello che succede Questo ragno maledetto Non mi vuole lasciare in pace Ragno schifoso Te ne vai, via Scappa Vattene via Vattene via Simo No, cosa succede? Ok, sei liberato Perfetto Sei liberato dalle ragnatele Perfetto ragazzi Ok Il ragno se n'è andato via Per ora Sicuro Ma sicuramente per ora ragazzi Perché è ancora lunga la nostra strada Uh, c'è qualcuno C'è qualcun altro ragazzi Ah mamma mia Cos'è? Chi è? Come faccio ad andare ad aiutarlo? Posso andare? No Non posso andare Ok Cosa posso fare? Aggrappati Dai Non è giusto questa cosa No Allora Così sicuramente non va bene Sicuro Dunque noi Cosa cerchiamo di fare quest'oggi? Cerchiamo di fare una roba del genere Via Posso andare su? Posso andare su Perfetto Adesso Olè Perfetto Simone Perfetto Vai Let's go Piccolo uomo Piccolo uomo Andiamo a salvare nostra sorella Da qualunque problema Da qualunque problema che ha Via 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 Let's go Ragazzi Allora Allora Però non è possibile questa cosa Ah mamma mia Dai ragazzi No Pensavo di esserci riuscito Come faccio io Se si spezza subito il ramo E questo è il problemino Vai salta Ok Ah via Ok perfetto ragazzi Con calma Si capisce tutto Ok dove andare via così Ah No 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 ti prego Mamma mia Porca Madone Cos'è raga Ma che cos'è Ok ok Forse ho capito Vai let's go Ok Ok 3 2 1 Salta Non ci credo Non ci credo Mi è partito il comando Non ci credo ragazzi Non ci credo Mi è partito il comando Così a random Ah vai Perfetto Salta Perfetto Vai Ok comunque ragazzi Inizio video Mi sono Mi sono Praticamente sbagliato E non ci si può abbassare In questo gioco Praticamente si può andare avanti Indietro E saltare E basta ragazzi Dunque non La freccetta in basso Non serve praticamente a niente Serve solamente scendere dalle corde E basta Ok La nostra storia sta proseguendo Tanta roba ragazzi Un altro ragno Schifoso No Ok Non è un ragno questo Oh Ok Non è un ragno questo ragazzi È un manichino Si può andare avanti Eccolo Eccolo ragà C'è qualcuno Ok Andiamo avanti Andiamo avanti Comunque ragazzi Abbiamo scoperto Che c'è qualcun altro No via 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 Si muove No no Non ce la faccio Ce la faccio Ce la faccio No No Corri Ok Sicuramente Non ce ne sarà solo uno Ma ce ne saranno tante Ok Via 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 Scappa scappa Mamma mia Che persona cattiva Ce ne sono due ragazzi Ma chi sono questi due qua Siamo nel limbo Dunque significa che non siamo da soli E perché mi vogliono far del male Perché mi vogliono uccidere Maledetti Stupidi bibbi Andiamo avanti Andiamo avanti Vai Simo Come se non ci fosse un domani Lì c'è qualcuno Che mi vuole fermare Nella mia missione Di salvare mia sorella Quelli lì Chi cavolo Oddio Che cosa sta facendo Questo Lo sapevo Lo sapevo Era scontatissimo Era scontatissimo No Dai C'era quasi Ok riproviamoci Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Vai 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 Ok Ah via Perfetto ragazzi Ok good Buono Salta Piccolo uomo E andiamo a prendere Questi due stupidi bibbi Che ci vogliono far del male Andiamo avanti Salta Perfetto Non ci credo Non ci posso Fottutamente credere Ok Perseguiamo la nostra avventura Guardiamo cosa Ok raga Forse abbiamo capito Cerchiamo un attimino Il ragno Cerchiamo un attimino Di farci colpire Non così però Vai Grande Grandesimo Che giocatore Ragazzi Che giocatore Ah Via via scappa Vai Grandissimo Vai Vai avanti Vai avanti Vai avanti Va avanti Ok è caduto È caduto È caduto No Via 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 No ragazzi No 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 Grandi Grandi ragazzi Grandi raga Vai via Vai via Ragno schifoso Maledetto Morirai prima o poi Vai avanti Vai avanti Vai un bel saltino Olè Perfetto Non ci posso credere Questo ragno Schifoso Maledetto Lurido Creatura Schifosa Con un piede Solo Ragazzi Mi viene a rompere Le scatole Siamo seri? Ciao amico Ciao Mi vuole ancora far del male Mi vuole far del male Ok Va bene Ok Scena bruttissima Ragazzi Scena veramente brutta Non so per cosa Cavolo sia successo Va bene Dai Andiamo avanti Guardiamo cosa succede Voglio scoprire cosa ci fanno Quei due Quei due Personaggi Fai Ok Comunque ragazzi Il ragno È ufficialmente Morto Per fortuna Ancora Ebbene sì ragazzi Anche per questo Secondo episodio Bisogna salutarci qui Noi ci vediamo presto Con il terzo Episodio Di Limbo Un gioco che mi sta piacendo E spero che vi stia piacendo Anche voi E ci vediamo presto Anche con tantissimi Altri video Che usciranno Veramente molto molto presto Sul canale Dunque ragazzi Attivate la campanellina Per non perdervi Neanche un singolo video Mi raccomando ragazzi Un bel like in su Un bel commento Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo presto Con un nuovo video Ciao gamer E noi ci vediamo presto 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 E noi ci vediamo presto